notizia gubbio 15 marzo 2015 iniziamo con il portale gubbio fans settimana che sta sfilando tranquilla dopo la ritrovata vittoria casalinga contro il fordì e a cori prova a mischiare pure le carte negli allenamenti facendo qualche esperimento d'altronde sono assente per infortuna ancora il difensore galuppo all'esterno sinistro marchionni che se tutto va bene potranno rientrare nel match interno contro l'ancuna nel giovedì santo nell'allenamento del mercoledì tuttavia non hanno partecipato l'attaccante caisse pure marchionni per un virus influenzale cominciamo bene sì mentre il difensore polacco la sicchi si trova attualmente in polonia con la formazione andrew 21 polacco aveva donna se nazionali come detto alcuni esperimenti da una parte regolante è stata provata a destra sull'altra fronte invece si sono districati tuttino sulla destra e vettaino schierato sulla sinistra quest'ultima in realtà potrebbe essere la soluzione più pausibile per affrontare a tutto cuoio domenica prossima nell'orario insolito delle ore 18 infatti vettaino è il candidato numero uno per sostituire la destra mancoso ma visto che è un mancino sarà dirottato sull'occasione tuttino sulla destra mentre salvo stravolgimento di sorte il solito regolante partirà c'è tra avanti intanto la società gomina comunica per la prossima partita che si giocherà in casa giovedì 2 aprile contro l'ancuna al barbitti è stata indetta la giornata del subito giovedì 25 marzo no questa è una notiziaccia brutta gli abbonati potrò sono acquistare il biglietto con diritto di preparazione perso la tabaccheria 2015 madonna in via benvenuto ma intanto la società del gubbia in questo pare in accorta con la società avversaria di poter giocare la partita alle ore 17 30 si attende ora la risposta della lega il prossimo avversario intanto ha risputato il recupero infrasettimanale si è giocato infatti all'acquera e padroni di casa sono imposti per 1 a 0 con rete decisiva di scrugli al 39esimo la tuttocuoio di ottavia rimasto in 10 uomini dopo appena 14 minuti per l'espulsione del portiere morandi la formazione toscana tra l'altro dovrà fare a meno del puntero colombo squalificato per tre giornate nel difensore conati fermato per due turni che erano stati espulsi nel derby vinto contro il puntatera altre nostre in girone pisa nel caos si è dimesso dopo appena due giornate il tecnico giuseppe pillon cioè dopo la sconfitta nel derby a lucca poi in settimana ha richiesto la recessione contattuale pure il capitano stefano morrone risoluzione consensale ora a guidare la prima squadra è stato promosso l'allenatore cristiano amoruso dalla berletta e pisana fino alla fine della stagione in corso problemi tecnici ma al solito e va bene niente in teoria rinza carica madonna vabbè per oggi finisce qui la puntata forza cubbio ciao ciao